ciao ragazzi benvenuti in questo video aggiornamento sul mio diciamo sulla mia operatività trading visto che in questo momento da un po di mesi no forse da un paio di mesi con questa strategia che ho trovato sto facendo diversi veramente guadagni grazie al trading e sto anche migliorando sto imparando un sacco di cose faccio dei video aggiornamento e se ti sei persa la strategia che sto utilizzando ti lascio il link in descrizione anche qui nelle schede uso due indicatori linea regressa candele l'utibot alert che mi dà praticamente segnale poi segnale di comprare e vendere sostanzialmente molto semplice la strategia quando mi dà segnale di vendere vado short quando mi da segnale di bai vado long quando le candele sono al di sopra di questa linea nera che vedete vado long quando è al di sotto vado short però ho scoperto che con il time frame 15 minuti vedete qui sell poi by qui se diciamo sugli cinque minuti è veramente un po quando ci sono queste situazioni è chiaro poi ti ha dato il segnale di bai ed è andato alla grande però magari tu entri qui non fai magari non fai molti poi ti sembra un segnale e poi magari se lo rimangia è molto più pulito e questo me l'avete consigliato voi è molto più pulito il time frame da 15 minuti però ci vuole più tempo quando diciamo per ricevere effettivamente il segnale della strategia ma quando la strategia ti dà il segnale sell su time frame 15 minuti guardare sell è molto più pulito by ed è andato by qui comunque è andato un po sell by è andato un po più lungo in questo momento non sta dicendo niente c'è un momento di incertezza è sinceramente preferisco aspettare che mi dia effettivamente il segnale e sul time frame di 15 minuti sono più sicuro ok quindi vi condivido questo aggiornamento d'ora in poi sto lavorando con la stessa strategia trovate il link in descrizione in cui la spiego sto lavorando a time frame 15 minuti altra novità se volete seguirmi da vicino in molti me lo avete chiesto ho creato un canale telegram gratuito si chiama mara trading esclusivo e privato potete entrare solo con il link che vi metto in descrizione li condividerò le mie operazioni i miei guadagni le mie perdite potete seguirmi passo passo è molto più immediato un canale telegram che stare a fare ogni volta un video quindi se ti interessa il trading le mie operatività quando condividerò quando entro quando esco e quindi vuoi stare a stretto contatto con me nel trading mai in descrizione e iscriviti al canale gratuito ma esclusivo privato mara trading trovi il link puoi entrare solo con il link che trovi in descrizione iscrivetevi ragazzi perché li condivido quando entro tutto da vicino quando entro quando esco in più trovate vari bonus promozioni che gli exchange mandano alla mia community li li comunicherò per prima ok vi ricordo che io uso bit get in questo momento per fare trading su bitcoin sostanzialmente promozione di bit get rivolta ai nuovi utenti ragazzi andate in descrizione vi iscrivete a bit get con il mio link è rivolta ai partner quindi per usufruire di questa promozione che vi da fino a 200 usdt bonus dovete essere iscritti con il mio link quindi e dovete essere dei nuovi utenti andate in descrizione primo link vi registrate a bit get avete il 10 per cento di sconto sulle fee poi tornate su questo video secondo link in descrizione vi registrate a questo sito che trovate il link il secondo link in descrizione dopodiché se fate un deposito di 100 dollari avete 100 dollari bonus che potete utilizzare per fare trading e copy trading e se poi fate un volume di 10.000 usdt sui future che con la leva è abbastanza semplice ne avete altri 100 quindi fino a 200 usdt 100 soltanto depositando 100 e già raddoppiate il budget con cui poter fare trading e copy trading e se fate poi trading o copy trading 10.000 usdt di volume vi scattano altri 100 dollari tutti i link sono in descrizione e scade il 31 maggio tutti i link sono in descrizione mi raccomando ci vediamo nel canale telegram se volete vedere appunto anche lì condividerò quando sto entrando e anche farò dei piccoli video per dirvi ragazzi sul 15 minuti perché io poi confronto anche i cinque minuti vediamo qui ha dato by però vedete un po di incertezza sto preferendo a stare calmo aspettare magari ci vuole più tempo ma quando arriva il segnale sul team frame di 15 minuti è davvero raro che poi ci sia un errore ok quindi c'è più probabilità di fare operazioni pulite guardate quanto è più pulito buy sell buy sell a parte qui però mi piace è molto più pulito il team frame 15 minuti in descrizione vi metto il tutorial anche qui nelle schede sulla strategia per chi se l'è persa che molto semplice e e di aspetto nel canale telegram ok per tutti quelli che fanno trading me l'avete chiesto in tanti e in tanti mi seguite per il trading quindi ci vediamo nel canale telegram così evito di fare video aggiornamenti però in questo video a parte comunicarvi la novità del canale telegram mara trading entrate è gratuito trovate anche bonus sui varie sulle varie exchange e anche metto anche qualche tutorial e condivido la mia diciamo esperienza e la mia operatività in questo momento del sono più attivo con il trading per il momento storico come già spiegato non sono consigli finanziari non sono un consulente finanziario e non sono neanche un trader cioè io sì ho studiato fatto qualche corso sulle candele su ovviamente capire una media cioè un diciamo una media esponenziale il trend rialzizza ribassista qualche qualche nozione ce l'ho però ovviamente non sono un trader assolutamente però questa strategia sta funzionando liquid descrizione oltre a comunicarvi questa novità ovviamente questo video è per aggiornarvi e dirvi che ora sto decidendo di operare sul time frame di 15 minuti la strategia è la stessa trovate il video nelle schede in descrizione ma la la uso sul time frame di 15 minuti perché vedete qui c'era non mi dice niente mi affido al loot bot alert quando mi da il segnale io entro ovviamente nel canale telegram condividerò anche la diciamo il management il margine e la leva magari sono dentro vi potrò condividere sono entrato short su bitcoin mille dollari leva 10 ok e poi vi condivido anche il risultato quindi entrate se vi interessa e e quindi canale telegram in descrizione il bonus di beat get in descrizione cos'altro dirvi sto operando sul time frame di 15 minuti iscriviti al canale perché comunque anche qui condivido novità e aggiornamenti sui guadagni tramite le cripto e noi ci vediamo ad un prossimo video fatemi sapere se oppure se allora il su telegram ho creato un canale non ho creato un gruppo quindi potete solo leggere quello che scrivo io vi mando il bonus vi mando gli aggiornamenti quando entro quando non entro potete avere una finestra su di me però non è un gruppo voi non potete scrivere è un canale privatissimo il link per entrare è in descrizione vi aspetto dentro tutti quelli che sono interessati se invece avete domande fatele nei commenti qui ok perché vi leggo tutti tutti i link sono in descrizione noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao